Cosa? Fino a qualche minuto fa, qui in studio c'è stato un conduttore che ha condotto l'isola al posto mio. Vuoi vedere? Anzi? Aiuto! Signore e signori, il futuro conduttore dell'isola dei famosi, Vincenzo! Benvenuti nell'isola dei famosi, tutto sotto controllo, 3, 2, 1, Arricchitevi! Chi è questo? Chi è che fa 3, 2, 1, Arricchitevi? Chi è? Come si chiama la tua mamma? Nel, sì! E quanto è bella la tua mamma? Tanto! E hai voglia di vederla? Quanto? No! Come no? Hai voglia di rivedere la tua mamma? Di rivedere la tua mamma? Di abbracciarla? Girati, Vincenzo! Come fa la canzone che canta la mamma? Nel, sì, ti chiamo Nel, sì! Sa compagno di tutto quanto so a casa, a trancapotto, semplice! E vieni questa città! Vincenzo, dai un bacio alla tua mamma di mamma, ti aspetto presto e ti abbraccio! Vai! Mamma, ti aspetto presto e ti aspetto a casa! Un bacio grande! Com'è il bacio grande? Con la mano! Vai! Ciao mamma! E' uno mezzo! M'è cresciuto! M'è cresciuto! M'è cresciuto! Oh vabbè, io... Ciao, 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 ciao. Ma non è io? Ma non è io? Ma non è io? Ma non è io? Tutta la tua famiglia e anche noi. Oh mamma, che emoziona. Anche i tuoi. E questa è la mia vita. Eh lo so, per quello che insomma abbiamo voluto in qualche modo farti rincontrare tutti, perché so che è la tua felicità. Amore, ciao. Amore mamma, ma come sei cresciuto, sei bellissima mammina. Vuole di un bacio. Amore. Amore, faccio un buio. Prendi un braccio. Sei bello, amore. Ti puoi andare con loro, ti puoi andare a sedere, sì sì, così lo prendi un braccio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, ti so. Buongiorno.